Luca Marathon ha scelto il giorno del sostizio d'estate per la seconda edizione di Un Giro di Mura Tutta, interessante corsa agonistica a carattere competitivo per coloro che intendono gareggiare cercando magari di battere il record di 12.35, stabilito giusto un anno fa da Giorgio Scialabba del gruppo podistico Parco Alpiapuane. Ma non solo atleti di spessore tecnico, la corsa è infatti aperta anche a coloro che nelle gambe non hanno tempi monstre ma grande cuore e voglia, quello sì. La manifestazione si svolgerà giovedì prossimo 21 giugno sulle Mura di Lucca, partenza alle 20.30 dal baluardo di San Colombano per affrontare 5 km in senso orario fino al Caffè delle Mura. Sarà possibile iscriversi fino alle 20.00. Per quanto riguarda la gara competitiva, valida per il criterio un podistico toscano, è prevista la consegna di un chip obbligatorio indispensabile per il rilevamento cronometrico. Seppur giovanissima, la 5K ha già preso campo e attenzione anche per la bellezza davvero unica delle Mura. E poi l'aspetto legato alla solidarietà. In occasione della presentazione della corsa sono stati consegnati tre sostanziosi assegni ad altrettante associazioni di volontariato e relativi all'introito della recente Lucca Alf Marathon. E questa è senza dubbio la vittoria più bella. E questa è senza dubbio la vittoria più bella.